Bene, Presidente Cavicchioli, prego, la invito al palco, quindi anche la Fondazione di Moda è la protagonista di questo progetto che guarda in realtà l'intera filiera italiana dell'Automotive, prego. Grazie, mi unisco anch'io ai saluti del Presidente Bisoni e del Presidente Gorno Tempini, che ringrazio, ringrazio calorosamente per aver accettato questo invito insieme a tutti gli altri partecipanti a questa, per noi, importantissima giornata. Ringrazio quindi il Sindaco della nostra città, di Modena, Giancarlo Muzzarelli, un saluto e un in bocca al lupo forte sentito al Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, un saluto al nostro Presidente, al Presidente di Acri, Francesco Profumo e un saluto ovviamente a tutti gli intervenuti che parteciperanno alla tavola rotonda che affronterà i temi oggetto dei contenuti di questa giornata. avremmo voluto svolgere diversamente questa giornata, ma d'accordo con Cassa Depositi e Prestiti e con Unicredit abbiamo ritenuto importante dare seguito a questa comunicazione, a questa iniziativa perché c'è parso che il modo migliore per onorare e ringraziare il lavoro di tutti quelli che stanno contribuendo a contrastare la pandemia che sta investendo non soltanto le nostre comunità ma il mondo intero sia quello di ognuno nei propri ambiti di intervento svolgere al meglio la propria azione con impegno e con rispetto degli obiettivi e crediamo pertanto che rimandare a domani quello che avremmo potuto fare oggi sarebbe stato sbagliato, soprattutto in tempi di incertezza come questa. Oggi comunichiamo due iniziative, due iniziative molto importanti, due iniziative che nascono da lontano e nel 2003 che l'insieme delle fondazioni di origine bancaria all'atto della trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in S.P.A. decidono attraverso una buona iniziativa di politica industriale del nostro Paese di partecipare al capitale di Cassa Depositi e Prestiti e questa iniziativa credo che vada vista da un punto di vista del legislatore in una visione coordinata con il decreto legislativo 153 del 99 che chiama le fondazioni di origine bancaria al comma 1 del secondo articolo ad agire anche per la promozione economica e lo sviluppo dei territori. Ora questo intervento oggi credo si compia in due iniziative che si realizzano sul nostro territorio. La prima, l'apertura di uno sportello presso la Camera di Commercio è un'iniziativa che sicuramente, come è stato detto in modo molto esaustivo dal Presidente Gorno Tempini, sicuramente contribuirà a rendere disponibile per un'area economica particolarmente dinamica ed innovativa come quella della nostra provincia, gli strumenti di Cassa Depositi e Prestiti che nel corso di questi anni, grazie a un lavoro costante di innovazione sulle modalità di intervento, hanno visto arricchire il portafoglio prodotti e servizi di Cassa proprio a servizio del capitale umano e del capitale d'impresa per accrescere la competitività del nostro Paese. Dall'altra parte questa è un'iniziativa che nasce da una visione di carattere strategico, è stato citato l'accordo che il nostro Presidente Profumo ha firmato con Cassa Depositi e Prestiti per rendere queste iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. D'altronde promuovere lo sviluppo economico dei territori per fondazioni che operano su una dimensione territoriale certamente circoscritta anche per gli evidenti vincoli statutari non è cosa semplice in un contesto globale in cui innovazione e competitività si stanno misurando ormai su scale di accelerazione e su scale di competitività mai esplorate nella recente storia. Questo significa cercare di innovare nei modelli di intervento, significa cercare di innovare innanzitutto nel coinvolgimento di attori perché il rischio di promuovere lo sviluppo economico partendo dai territori rischia di diventare inefficace o soltanto saltuariamente capace di promuovere quello sviluppo sostenibile che è ambizione di tutti. Ed è per questo motivo che diventa particolarmente rilevante il lavoro di coinvolgimento che abbiamo cercato di svolgere insieme con la nostra banca conferitaria e con Cassa Depositi e Prestiti. È un lavoro che ci ha portato a sviluppare un progetto molto innovativo, un progetto che sviluppa un'idea di innovazione aperta, un'innovazione che si gioca proprio per la competitività del settore automobilistico e di tutto ciò che è legato alla mobilità delle cose, delle persone nel prossimo futuro. Si gioca e si giocherà sempre più sull'attrattività del capitale umano e allora per questo diventa particolarmente rilevante approcciare queste sfide con dei modelli aperti, dei modelli che sicuramente vedano il nostro territorio ma più in generale il nostro paese fortemente radicati ma che al tempo stesso non precludano coinvolgimenti di soggetti e di centri di ricerca su scala internazionale. Lo abbiamo deciso di fare su un settore caratteristico e distintivo per il paese, per Modena e per l'Emilia, l'automotive, ma lo abbiamo deciso di fare anche con capitali significativi e per questo ringrazio ancora Cassa Depositi e Prestiti ed Unicredit. Questo è un progetto che non si sarebbe potuto compiere se non si fosse lavorato insieme. Il contributo che noi vediamo nei confronti dei nostri azionisti, degli azionisti di cui, scusatemi, facciamo parte un contributo particolarmente innovativo. Vorremmo cercare di muovere da una responsabilità che sostanzialmente sta in una visione del nostro ruolo per quanto riguarda la visione strategica e del controllo dei soggetti nei quali partecipiamo ad una nuova dimensione che passa oltre quelle imprescindibili dimensioni di reddittività che noi chiediamo ai nostri investimenti. Vuole diventare un'azione che diventa responsabile. Vogliamo passare da un'etica dei principi, se possiamo chiamarla così, a un'etica della responsabilità. La responsabilità del fare progetti insieme e del presentare proposte innovative che possano contribuire ad un modello collaborativo per lo sviluppo sostenibile del Paese. E questo lo abbiamo cercato di fare partendo dal presupposto che, nel caso di Unicredit, la nostra partecipazione è una partecipazione che risale alla Costituzione della Fondazione di Modena, particolarmente rilevante, particolarmente importante, alla quale siamo anche noi affezionati, ma che vogliamo interpretare attraverso un ruolo attivo, proattivo di questa partecipazione, cercando di portare alla banca progettualità che ci vedano partecipi di una responsabilità comune, come abbiamo cercato di fare in questo caso. E quindi, consapevoli dei profondi richiami di capitale che sono stati posti anche nel corso degli ultimi anni, consapevole delle profonde trasformazioni che stanno intervenendo nei modelli di business del settore bancario, crediamo che il sistema bancario sia ancora un operatore imprescindibile per lo sviluppo economico dei territori e per le imprese. E quindi da questa assunzione il coinvolgimento e questo lavoro di squadra. Ed infine per quanto riguarda CDP, il piano industriale 2019-2021 è già stato citato, è un piano industriale importantissimo che introduce delle novità rilevanti e che sono state, devo dire, con grande capacità di esecuzione organizzativa portate in essere dal management di Cassa Depositi e Prestiti. Per questo voglio sinceramente ringraziare l'amministratore delegato Fabrizio Palermo, tutta la squadra che sta lavorando sui progetti di rilevanza strategica di Cassa Depositi e Prestiti, ma nella fattispecie voglio ringraziare sentitamente a nome di tutta la fondazione e di tutti gli enti locali, l'amministratore delegato per il lavoro che sta svolgendo in favore dei territori. Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di portare Cassa sui territori perché l'economia di questo paese e questo paese sta nei territori e questa è stata una scelta di carattere strategico importantissimo. Ha deciso di farlo attraverso il sostegno all'imprenditorialità e la costituzione di una dotazione particolarmente significativa alla quale attinge questo fondo per l'innovazione è certamente un messaggio particolarmente importante e ha deciso di farlo, devo dire, con la costituzione di modelli di intervento che sono particolarmente innovativi e ai quali le fondazioni possono riferirsi, credo, almeno è stato così nel nostro caso, con grande partecipazione e con grande interesse. Questo ruolo di Cassa, credo, sarà destinato a giocare una prospettiva molto importante per il nostro paese, per lo sviluppo della competitività del nostro paese e credo che l'inaugurare oggi, qui in questa città, al centro della Motor Valley, un acceleratore dedicato alla mobilità e all'automotive, rappresenti un successo particolarmente importante in questo momento particolare del nostro paese. Il nostro è un paese che ha solide e profonde tradizioni industriali, tradizioni industriali che hanno costituito il benessere del nostro paese e certamente lo costituiranno ancora se continueremo a lavorare con una visione di sistema che parte dai territori e che cerca in prospettiva futura di rendere queste iniziative sempre più aperte e sempre più sovraterritoriali. E d'altronde la competitività di un paese si gioca sulla qualità del capitale umano che esso è capace di produrre e credo che su questi progetti le prospettive siano particolarmente incoraggianti. Grazie.